Ignorava che ci fosse, fino a quando è stata scoperta, nell'ottobre scorso, quella bomba che dorme dal 1943 sotto la ferrovia venuta dal passato a bussare, con il tocco pesante, durante i lavori di dismissione dei binari. Via Marconi 36, Augusto, come gli altri residenti del palazzo più vicino all'area dove è stata ritrovata, ha visto dalla sua finestra il ritrovamento e poi le operazioni di prima messe in sicurezza. Non assiste al disinnesco però, si prepara al mattino presto a lasciare il cerchio più prossimo della zona rossa di 800 metri, istituita per il disinnesco da parte degli artificieri del genio ferroviari dell'esercito. Un po' di paura c'è però è una cosa normale. Siete proprio vicinissimi voi. Sì, 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 non dovrebbe scoppiare, non dovrebbe succedere niente, ma però è sempre meglio allontanarsi, c'è un po' più sicurezza. E quindi ha visto anche le operazioni, insomma, quando è stata ritrovata? L'ho vista tutte. Questa è coperta da sabbia, giusto? Sì, c'è una specie di piramide, quindi si sta tranquilli per la defragazione, per le esplosioni e quelle cose così. Sono pronto per andare via con la macchina, qui con la moglie, con l'animale, l'ho lasciata a casa il gattino perché è pauroso, sai. Non è come i cani, magari lo tieni al guinzaglio e lo porti fuori. Andiamo fuori in un paesino dopo il Pinocchio, lì quindi. Pochi metri dalla bomba ma siete tranquilli. Tranquillissimi, tranquillissimi.